A 40 anni dalla sua uccisione, la RAI è orgogliosa di presentare un documentario su Piola Torre. Piola non aveva paura di niente e di nessuno. Uomo coraggioso, politico rigoroso. Era un uomo buono. Che con tenacia lottò contro la mafia e le ingiustizie sociali. Il reato di appartenenza alla mafia è un'intuizione di Piola Torre. Un racconto appassionato, dalle umili origini alle grandi battaglie di giustizia. La mafia ha come fine il legge d'arricchimento, è lì che dobbiamo mettere il riflettore. Con la regia di Walter Beltroni, ora tocca a noi, storia di Piola Torre. Questa sera 21 e 25, RAI 3.